La misurazione in sequenza è preposta alla verifica scritta lungo una condotta a scopo di localizzazione delle perdite. All'interno del menu andrà selezionata la voce Misurazione in sequenza. Mediante il tasto Selezione verrà avviata una misurazione oppure verrà arrestata una misurazione in corso. Dopo 5 secondi, una misurazione eventualmente in corso verrà arrestata automaticamente e verrà acquisito il valore minimo di rumorosità misurato. Quanto più la misurazione sarà vicina al punto di perdita, tanto maggiore sarà l'altezza delle barre di misura visualizzate. A sinistra nell'elenco verrà visualizzata la cifra della misurazione del valore massimo nella serie di misurazioni. Inoltre, in basso a sinistra verrà visualizzato il valore di misura attuale. Mantenendo premuto il tasto Selezione verrà cancellata l'ultima misurazione della serie. Mantenendo premuto più a lungo il tasto Selezione verrà cancellata l'intera serie di misurazioni.